Il fratello Rosario Verissimo, Beppe Fiorello svela il suo sogno con il fratello Rosario Beppe Fiorello Verissimo parla del fratello Rosario e del sogno a cui aspira Questo pomeriggio, nel talk rosa di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin, è stato ospite Beppe Fiorello per promuovere il suo nuovo film uscito in tutti i cinema italiani, Chi m'ha visto? Per Beppe Fiorello, quella di oggi è stata la prima intervista all'interno del programma Verissimo ed è stato accolto dal pubblico con un calore formidabile, che non a tutti viene dedicato. La promozione del film è solo una parte dell'intervista. Beppe Fiorello si è aperto a Silvia Toffanin raccontando i suoi esordi, il rapporto con il fratello Rosario Fiorello e dei suoi progetti per il futuro. L'attore, parlando del futuro, ha svelato che da sempre ha un grande desiderio, quello di riuscire a lavorare in uno show con suo fratello. Approfondendo il tema, Beppe spiega a Silvia Toffanin che nonostante lui e il fratello facciano due cose diverse nel mondo dello spettacolo, spera di riuscire a trovare un punto di incontro tra i loro modi di raccontare e confezionare uno show, lavorando così insieme. Spiega di averne parlato con suo fratello Rosario, il quale quindi è a conoscenza di questo sogno. Al pubblico non resta che sperare sia veri per vedere insieme i due grandissimi fratelli, così tanto amati. Beppe e Rosario Fiorello insieme in uno show, il sogno raccontato a Verissimo. L'intervista a Beppe Fiorello continua e l'attore racconta alla conduttrice di Verissimo cosa ha provato quando all'inizio della sua carriera ha ereditato dal fratello il programma karaoke. Il pubblico non faceva altro che paragonarlo al fratello, ma nonostante tutto questo, per Beppe l'esperienza fu incredibile. Svela che nella vita molte persone li hanno più volte classificati ma il confronto con Rosario Fiorello a lui non ha mai dato fastidio. A Silvia Toffanin in particolare dichiara. Appena iniziai a condurre karaoke, iniziò anche un periodo di paragoni con mio fratello Rosario, ma tutti accettabili e giusti. Non mi è mai pesato poiché l'amore tra noi ha sempre prevalso su qualsiasi tentativo di paragone. Ormai è finita e non ci paragonano più. Dunque il segreto tra i due fratelli Fiorello è l'amore che li lega e che non permette loro di litigare, come invece accade tra altre coppie di fratelli VIP. Parlando del film team visto in onda attualmente nei cinema italiani, Beppe Fiorello è il protagonista insieme a Pierfrancesco Favino. Nonostante sia uscito solo da un paio di giorni, il pubblico gli ha dimostrato grande affetto. Silvia Toffanin, durante l'intervista l'ha proclamato re della fiction e a sua volta Beppe ha riempito di complimenti, meritati, la conduttrice, sempre molto attenta e interessata all'intervista che esegue. Grazie per la visione!